Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale, per noi è molto importante, grazie. Adesso concentriamoci su un argomento che ha attirato l'attenzione di molti ultimamente, il mistero che circonda la figura di Liliana Resinovice. Questa donna di 63 anni, originaria di Trieste, è scomparsa nel dicembre del 2021, lasciando dietro di sé sono domande senza risposta. Dopo 22 giorni dalla sua sparizione, finalmente è stato trovato il suo corpo. Tuttavia, la giornata odierna ha segnato un momento cruciale grazie al rilascio di informazioni precedentemente sconosciute, ottenute attraverso un'intercettazione ambientale. Una conversazione intercettata ha rivelato un frammento del passato di Liliana. In particolare un episodio avvenuto tra il 1990 e il 1991, che getta una nuova luce sulle dinamiche personali tra lei e Sebastiano, nonché su altri individui vicini alla coppia. Un conoscente dei due ha condiviso un momento particolarmente intimo della loro vita, Liliana si trovò incinta di un altro uomo, Claudio Sterpin. Nonostante la delicata situazione, fu Sebastiano Vicintina a sostenerla, accompagnandola all'ospedale per un aborto. Questa conversazione, avvenuta il 5 marzo 2022, ha portato a riflettere sul motivo per cui la coppia non avesse avuto figli. Sebastiano, aprendosi su un capitolo doloroso del loro passato, ha raccontato di come Liliana gli avesse rivelato la gravidanza e di come lui avesse deciso di sostenerla in quella difficile scelta. Questa rivelazione non solo aggiunge un nuovo strato di complessità al loro rapporto, ma trova anche conferma nei documenti sanitari che fanno parte degli atti di indagine, consolidando ulteriormente la narrazione.